Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene e oggi, martedì 22, ci sarò io a leggere la parola che rivela il mandato. Se state facendo qualcosa, prendetevi una pausa, se invece non state facendo niente, potete pure ascoltarmi in tranquillità. Il nome del Padre e il Figlio dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni, vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, in verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Sono in cammino, ho bisogno di sapere che sono accompagnato in questo cammino da Gesù, che è la verità. La verità si rivela a me, così come è, e io così come sono. Sono chiamato ad accogliere quello che succede nella mia quotidianità, attraverso uno sguardo nuovo, fatto di misericordia, di bontà e di perdono. Accolgo la verità che è Gesù, attraverso il suo invito, ascoltare la sua parola ogni giorno. Gesù si rivela attraverso le piccole cose che viviamo ogni giorno. Perché ci aiuti a riconoscerlo, preghiamo dicendo Anche quando gli amici ci fanno male, insegnaci a riconoscere la verità che si rivela. Anche quando le cose non vanno come desideriamo, insegnaci a riconoscere la verità che si rivela. Anche quando litighiamo e cadiamo nel torto, insegnaci a riconoscere la verità che si rivela. e per oggi vi chiedo di cercare di accogliere chi vi sta più antipatico non tanto per cercare subito di installare un rapporto di amicizia ma per un po' alleggerire questa antipatia che avete nei confronti di qualcuno o che magari qualcuno ha nei confronti vostri che non potete sapere e vi chiedo nello specifico di mettere da parte appunto queste superficialità e di trovarne altre in quella persona che vi sta antipatica cercando di vedere qualcosa che magari vi mette in comune o che non sapevate appunto di avere entrambi o solo lui che vi fa piacere e così facendo potrete trovare un legame appunto che si costruisce pian piano, non vi dico subito perché se vi sta antipatica ci deve essere anche un motivo e direi che per oggi è tutto concludiamo con un Ave Maria e poi vi saluto Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Ciao a tutti ragazzi e alla prossima